Una economia di crescita, la nostra, l'economia globalizzata è una economia che non ha più come fine, che è la crescita per la crescita. Crescere sempre di più, consumare sempre di più per far crescere sempre di più e se non vogliamo consumare, consumeremo per forza grazie alla pubblicità che ci colonizza l'immaginario e grazie al credito che ci indebitiamo sempre di più. Si sa che negli Stati Uniti il debito è due volte il prodotto interno loro, abbiamo ancora progressi da fare e dove andiamo? Andiamo direttamente a fracassarsi dentro il muro. Questo lo sappiamo tutti e per questo è la necessità di organizzare, di uscire della società di crescita e organizzare una società di decrescita. Naturalmente la società di decrescita nessuno sa che cos'è. Non è un'alternativa, è una matrice di alternative. Dobbiamo riaprire il futuro, riaprire la strada all'immaginario e inventare la nostra società. Siamo responsabili del nostro futuro, vogliamo riprendere in mano la nostra storia e questo penso è un progetto fondamentalmente democratico.